Firmata nel pomeriggio dal presidente della Regione Marche, l'ordinanza che, alla luce dell'analisi dell'andamento epidemiologico effettuata con il Servizio Sanità, stabilisce i nuovi provvedimenti in vigore fino al 14 marzo. L'annuncio è arrivato ieri in tarda serata da parte dello stesso Acquaroli, che in un post diffuso sui social ha descritto le principali misure restrittive valutate considerando anche le nuove regole introdotte dal DPCM, che entrerà in vigore dal 6 marzo. Si allarga la macchia rossa all'interno della Regione, secondo quanto stabilito dall'ordinanza di Acquaroli. A partire da domani, sabato 6 marzo, le province di Ancona e Macerata saranno in zona rossa, il che prevede, tra le altre misure, la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine grado, comprese le università. Le altre province di Pesore Urbino, Fermo e Ascoli Piceno restano invece in zona arancione, con la chiusura e da dal 100% delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, ovvero medie e superiori e delle università. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per i laboratori, gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Questo provvedimento, ha scritto Acquaroli, è necessario per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini marchigiani, per la tenuta delle strutture sanitarie e soprattutto per cercare di scongiurare scenari peggiori. Nessuna decisione, ha continuato il Presidente, viene presa a cuor leggero. Chiudere le scuole o adottare zone rosse sono scelte dolorose, ma di responsabilità, sostenute da analisi tecniche e da dati epidemiologici che ci dicono che è giusto intervenire.